Molte volte i cittadini ce la prendiamo con la politica, ce la prendiamo con la politica perché non svolge il proprio compito e abbiamo pure ragione, ne parlavo adesso con un cittadino al quale ho detto però il 90% delle colpe della politica che non funziona è nostra, dei cittadini, perché? Perché abbiamo un comportamento scorretto, non ci interessiamo dei problemi, demandiamo agli altri e quando noi ci dobbiamo comportare dai cittadini eccolo qua, siamo a via Santa Croce all'incrocio con via Roma vicino al mare, nel pieno centro di noi crotonesi, abbiamo messo in bella mostra, c'è stata una ristrutturazione di qualche bagno, abbiamo messo un cesso e un bidet e l'abbiamo messo in modo visibile, in modo che si vedesse, in modo che si vedesse. Allora si tratta di rifiuti speciali, non possono essere smaltiti in mezzo alla strada, però qui tutto è possibile, cioè tutti i cittadini quando dobbiamo utilizzare il territorio nostro lo utilizziamo a nostra immagine e somiglianze, ovvero lo utilizziamo a seconda dei nostri bisogni, come se il territorio appartenesse solo a noi, come se la città fosse solo mia, e allora che faccio? Devo fare dei lavori al bagno, il bidet e il cesso lo butto in mezzo alla strada e lo metto in benevidenza in modo che tutti gli altri si rendono conto della mia inciviltà.